Sì, no, no, è già tre anni che veniamo. Terza volta. La prossima volta lo lascio a casa con tutto quello che mi ha comprato. Almeno un quindici anno. No, è già diversi anni che veniamo qua. Sono venuta domenica scorsa. No, è già il terzo giorno. Seconda. Eh, settima. 25 anni. Più o meno, da quando sono piccola. Bene, ogni giorno vedo degli stand diversi. È un'abitudine per noi in questo periodo. Trentino con lo strudel. Caprese al cioccolato. Gelato al pistacchio. Panino con la milza. Arancino. Arancino, arancina. Prosciutto. Panino da prosciutto. I prezzel, i prezzel. Panelle. Pane e panelle. Mojito. Birre. Il mojito. Confetti, abruzzesi. Il mojito. Ciughe. Il muster e crauti. Sì, piene, ma vorremmo assaggiare anche altro. Per chi viene l'anno prossimo, portatevi un'amica siciliana per abbassare i prezzi. Ciao, fiera a tutti. Ciao. 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 Ciao.